Nata di apertura, sempre in sole per noi, qualcosa di un numero cento dei treni, ricordiamo un'altra vittima importantissima della storia italiana della Supermoto per un passino ero. Non manca mai quando c'è da dare gas da benfigurare con la Supermoto. il passaggio di Romano il passaggio di Romano il passaggio di Romano affollamento in pista quindi dovranno essere anche bravi a trovare il momento giusto per questo primo gruppo come detto 6 minuti di libere 6 minuti di prove cronometrate esatto questa è la fortuna con sempre vincente qui a Motolive da apprezzare oltre all'anello asfaltato anche il tratto sterrato dove alcuni piloti riescono veramente a esprimersi quasi come ad essere le ruote tassellate questi piloti che ormai sono...